Sostenibilità ambientale e contenimento dei costi sono due degli obiettivi dell'efficienza energetica e anche degli obiettivi delle banche. Come Edison accompagna le banche in questo tipo di interventi? Edison ha aggiunto al proprio portafoglio di offerta recentemente delle soluzioni dedicate al terziario e ai segmenti del terziario tra cui in particolare le banche, chiaramente le banche sono un segmento crescentemente rilevante anche per Edison. Si tratta di un pacchetto di supporto al cliente a 360 gradi costituito sostanzialmente da soluzioni per la misura, la gestione dei carichi, i manager in particolare è la soluzione che Edison propone alle banche per poter monitorare il proprio modo di consumare e per poter fare delle scelte razionali sia per ridurre gli sprechi sia per fare poi interventi di efficientamento ulteriori con investimenti e tecnologie di nuova generazione. Edison supporta anche il mondo del terziario e le banche con possibilità di supporto dell'investimento di comunicazione perché sappiamo che il tema è anche un tema che merita una comunicazione verso i clienti finali, questo soprattutto rispetto alla gestione della carbon footprint e dei protocolli di CSR sostanzialmente. L'idea nostra è anche quella di renderci partner energetico a 360 gradi integrando la soluzione di efficienza con la fornitura di energia elettrica e gas. Sappiamo che l'obiettivo dei nostri clienti è quello di avere un partner su tutto questo fronte completo, ci sono elementi ad esempio oggi che come fornitori viviamo con difficoltà quando il cliente ha per esempio complessità nella gestione dei propri consumi, magari su certe reti di distribuzione non otteniamo i dati consuntivi e corretti, il fatto di avere in casa un misuratore e una gestione da remoto aiuta naturalmente molto ad avere anche sicurezza di fatturazione e certezza di consumi consuntivi. Ci sono già delle esperienze e dei risultati che avete potuto rilevare? Abbiamo sicuramente sì una serie di evidenze già dal campo anche solo nella parte relativa all'efficientamento comportamentale, lo chiamiamo così, quello fatto solo dell'eliminazione degli sprechi, si raggiunge sempre o con anche grande probabilità un 10% di risparmio secco su tutta la spesa energetica, abbiamo fatto interventi su diverse filiali bancarie nella gestione oculata per esempio dello spegnamento dei computer che sappiamo in ambito bancario essere uno dei device che consumano energia elettrica più frequentemente, piuttosto che interventi sulla ventilazione in modo da regolare la ventilazione in funzione della concentrazione di CO2 che c'è nella filiale e questo chiaramente funziona di quanto poi la filiale è piena o meno di persone a seconda dei momenti e degli orari, con questo tipo di approccio si ottengono risparmi assolutamente rilevanti, tra l'altro con complessità basse dal punto di vista tecnologico e anche con investimenti piuttosto ridotti.